Il premio Solidarietà, istituito dall'Accademia per l'Arte Santissimi Luca e Beato Angelico, è dedicato alla memoria di Sor Anna Coscia, scomparsa nel 2015 a causa di una malattia oncologica. L'intenzione dell'Accademia per l'Arte è quella di trasformare l'improvviso e doloroso evento in uno strumento che possa offrire gioia, speranza e supporto a tutti coloro che vivono la drammatica esperienza della malattia. Il premio si propone di promuovere soprattutto tra i giovani l'educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura del volontariato, volendo esaltare i valori di generosità, altruismo e rispetto dell'altro. Si valuteranno le varie candidature delle associazioni e circoli culturali di promozione sociale che lavorano e si distinguono nel settore della solidarietà, tanto importante ed essenziale per la collettività anche attraverso le varie forme d'arte, la pittura, la scultura, l'arte presepiale, la musica, la danza, il canto, l'arte narrativa, la scrittura, la poesia, la fotografia, il video e in primis quelle associazioni che promuovono gli obiettivi specifici della ricerca medica e scientifica e la solidarietà, elementi fondamentali per la promozione e la sensibilizzazione della popolazione. Si esamineranno le candidature di tali associazioni che in questo contesto operano. Il fine è quello di contribuire alla promozione del volontariato per la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone malate che soffrono e delle loro famiglie. L'obiettivo del premio Sor Anna Coscia è quello di svolgere un'opera di sensibilizzazione verso i giovani, segnalando le associazioni, i circoli culturali artistici e di promozione sociale, le singole persone, i gruppi di volontari, i gruppi parrocchiali, le istituzioni benefiche, i gruppi scolastici e i loro progetti, che nei settori della ricerca, della scuola, della cultura, dell'arte, del lavoro, della politica, dell'economia, dello sport e dello spettacolo, offrono parte della loro vita a favore di chi soffre. Il premio Sor Anna Coscia consiste in un'opera d'arte pittorica eseguita con la tecnica dell'olio e spatola. Il premio verrà assegnato ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore dell'Accademia per l'Arte Santissimi Luca e Beato Angelico, nell'ambito della cerimonia pubblica alla presenza delle autorità del Comune di Canna Longa. Nel corso della cerimonia si assegneranno altri riconoscimenti e premi speciali a personalità e cittadini per meriti acquisiti nell'impegno verso i bisognosi e a professionisti che si sono particolarmente distinti nell'ambito della solidarietà o della malattia oncologica.